Le api operaie nascono da un uovo fecondato e depositato dalla regina in una cella dell'alveare. Vengono nutrite per sei giorni dalle api nutrici, poi chiusa la cella... Forse Portland non era la nostra città. Dove sono gli entusiasmi della nostra gioventù? Che fine ha fatto la musica che vale qualcosa? Yuhu al kingdom o i kiss al colisium? Che fine ha fatto Misty Mountain Top? Dov'è finita Smoke on the Water o canzoni come Iron Man oggi? Che facciamo stasera? Usciamo? Guardate, date un'occhiata qui. La maggior parte di questi complessi sono come delle belle bottiglie piene di canteggina. E musica per chi non se ne intende. È come dire che la prossima guerra mondiale sarà sponsorizzata a... Non lo so, ditemelo voi. Che ne dici di un bel bagno? Ricordatevi sempre questo. Noi andiamo forte soprattutto in Belgio e in Italia. Essa combatte il nemico con meraviglioso coraggio, senza pretendere gratitudine o compensi. Inconsciamente è consapevole che nella Repubblica delle Api il singolo non ha importanza. E che la pubblicità è... E c'è! Ehi, tieni. Non attaccarmelo. Ho il concerto quest'ultimo. Ma non appena ne esce la larva.